Abbiamo visto la spiaggia ma c'è anche un posto, intanto che l'Antonella telefona, andiamo a vedere un attimo, c'è una piccola piscina molto bella, penso che sia aperta a tutti, c'è un piccolo mini market, no il posto è veramente, ah ma è molto bello il posto, ecco una piccola piscina, penso aperta a tutti. E' molto bello. I posti sono belli, eh. Bello, Antonella è riuscita a concludere la telefonata, hai telefonato Antonella? Sono via. Sono via. Quindi la buona volontà di telefonare spesso e volentieri, l'abbiamo sempre avvito. La mamma di Demo e Demo sono andata più via con la sua organizzazione di Milano. Perché sono 13 agosto. E Daniele è in colpa. Allora, niente, andiamo a casa, adesso la mamma è già preparata, andiamo mentre tu sei a casa a prendere caldo. che lo prendiamo anche noi che qua, e noi vediamo i campi da tennis qua, vicino alla casa, che uno se vuole la sera, può andare nella sbattacera e sbattacera e sbattacera. E abbiamo anche i campi sportivi, da correre il mattino. Vito? Ecco, con 20 marchi ci sono queste belle cose qua. Dai.